Via libera al processo che porterà alla fusione di BIM Infrastrutture e BIM GSP con BIM GSP che incorporerà BIM Infrastrutture. Questo è quanto ha deciso l'Assemblea dei Soci oggi a Villa Carpenada appunto per avviare questo processo. Due le condizioni poste dai sindaci, la prima un CDA a 5 membri e l'altro una presentazione di un piano industriale prima della conclusione di questo progetto in modo che sia ben chiaro fin dall'inizio quale sarà l'utilizzo del tesoretto di BIM Infrastrutture. Una società con un patrimonio di oltre 100 milioni. E' questo il punto di approdo finale dell'incorporazione di BIM Infrastrutture in BIM GSP. Sotto lo stesso ombrello quindi ci sarebbero servizi idrico integrato, 36 impianti idroelettrici, l'impianto di teleriscaldamento a biomassa di Santo Stefano di Cadore e servizi di distribuzione di GPL nei comuni di Ponte nelle Alpi, Val di Zoldo, Santo Stefano, Comerico Superiore e Sappada. In futuro però non si escludono nuove iniziative nell'ambito della produzione energetica dall'idroelettrico in siti del servizio idrico integrato, al fotovoltaico, agli impianti a idrogeno. Il settore energia potrebbe valutare anche come cogliere le eventuali opportunità derivanti dalla partita delle grandi derivazioni in scadenza nel 2029, che però è nelle mani della Regione, e le possibilità collegate al termine delle concessioni di entità minore già il prossimo anno. Da valutare le politiche di investimento per rafforzare le varie attività. BIM Infrastrutture ha a disposizione un tesoretto di 70 milioni di euro derivante dall'accessione delle reti del gas e da fondi accumulati negli anni. E poi occorrerà capire anche che cosa farà questa grande società che dovrà nascere. Potrebbe diventare una multiutility, si vedrà se ne è discusso oggi, ma è possibile, si sta ancora valutando, che questa società si occupi anche di altro rispetto all'acqua e all'energia.